Bene, buonasera. Buonasera, allora benvenuti a questo incontro che dall'inizio appunto alle conferenze degli incontri tra cielo e terra, mi accorgo che sono 15 anni che facciamo, rinnoviamo ogni anno questo appuntamento, quindi devo sempre ringraziare il Comune di Varese che ci lascia questa bellissima possibilità di essere ospitati in questa sala e la prima conferenza di questo ciclo, quindi poi invito tutti a raccogliere anche il volantino, è di Giuseppe Picinotti, nostro socio d'antica data, che ci parla di Marie Curie. Questo in una sequenza di altre conferenze che ha tenuto sui grandi scienziati del Novecento, che è sempre interessante appunto accostare perché ci raccontano un po' non solo del contributo scientifico che queste persone hanno dato, del loro aspetto umano, ma anche così per capire meglio questo secolo che ci lasciamo alle spalle. E quindi ti do la parola, grazie. Buonasera a tutti. Allora, Marie Curie è un nome estremamente noto, anch'io credevo di sapere tutto di Marie Curie fino a che non ho cominciato a studiare per preparare questa cosa, allora ho scoperto che sapevo pochissimo di Marie Curie. Questa storia si svolge all'inizio per i primi 24 anni della sua vita in Polonia e poi si svolge essenzialmente in Francia. Io non ho mai studiato il francese, quindi chiedo scusa fin dal momento per gli errori di pronuncia sul francese. Cerco di non farne troppi. Per quanto riguarda il polacco, immagino che nessuno di voi ne sappia molto, io niente, però ci provo. Quindi, allora, vediamo Marie Curie insieme a suo marito Pierre Curie, che lavorano allo strumento con cui realizzarono le scoperte che valsero i premi e tutto il resto. Ma vedremo che non è solo una storia di successi, ma purtroppo è anche una storia di grandi tragedie e di grandi difficoltà. Allora, come diceva Luca Molinari, vi ho raccontato la storia di una serie di grandi scienziati, famosi fisici. Adesso poi ho battuto il film Oppenheimer di un 6 o 7 anni, diciamo, visto che ne ho parlato molto tempo fa. Sono tutte persone importantissime, ma controverse da un punto di vista etico per il loro ruolo nei programmi nucleari bellici dei loro paesi, con la sola eccezione di Dirac, che non ha partecipato. Tutti uomini. Infatti l'idea di Marie Curie in fondo venne da una delle mie figlie, che non è mai venuta a nessuna di queste presentazioni, anche perché vive all'estero, ma non è per questo. Però mi si lamentava che diceva sempre solo uomini. No, allora cominciamo con una donna e il primo nome che viene in mente è ovviamente Marie Curie, nata Maria Salomea Skodowska, di cui l'unica fatto controverso è che era una donna. E non è che io faccia la parte così a prioristica. Vedremo quante difficoltà ha avuto proprio perché una donna in un ambiente che era fortissimamente maschile negli anni in cui lei operava, naturalmente. E come diceva sempre Luca Molinari, cogliamo anche l'occasione per parlare un po' della fisica che ci sta dietro, fisica e chimica, con gli occhi di allora, perché è veramente sorprendente con le conoscenze di allora. Quindi ci riporteremo a un certo punto indietro a dire che cosa si sapeva quando Marie Curie ha incominciato a fare quello che ha fatto. Però ovviamente mettiamo anche un po' di conoscenze di oggi. Per metterci in una linea temporale, i personaggi di cui vi ho già parlato sono tutti nati dopo il 1900. Fermi 1901, Heisenberg 1901, Dirac 1902, Oppenheimer 1904, Teller 1908, il ragazzino Sakharov che è nato quasi vent'anni dopo. Marie Curie è proprio a cavallo tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo. È nata nel 1867 ed è morta nel 1934, quindi 33 anni li ha vissuti nell'altro secolo e 34 nel secolo successivo. Per dare un'idea a Einstein, che sembra, lo vediamo sempre come superiore, anziano rispetto a questi altri, è nato 12 anni dopo Marie Curie, poi è vissuto ben più a lungo. Le fonti, che fonti ho usato? C'è una quantità incredibile di letteratura su Marie Curie, biografie, studi, un sacco di cose. Però ho scelto e quindi anche letto queste. Questa è una autobiografia che lei stessa scrisse nel 1923 quando aveva 56 anni. Lei non avrebbe mai scritto un'autobiografia di se stessa se non gliel'avessero chiesta e messa come condizione, come vedremo perché a un certo punto lei si recherà negli Stati Uniti per cercare fondi per le sue ricerche e una delle condizioni che le posero era che scrivesse una sua autobiografia. Comunque molto interessante. Questa biografia, vita della signora Curie, è stata scritta da sua figlia minore, Eve. L'ha scritta poco dopo la morte di sua mamma. Marie Curie è morta nel 1934, questo è stato pubblicato nel 1937 e l'ha scritto 35-36, pressa poco. In quel momento Eve Curie era giovane, aveva 32 anni, 33, era nata nel 1903, quindi 34 forse anche, però giovane. Poi c'è un'altra biografia molto importante, questa, scritta da Robert Reed, è uno dei biografi più accreditati su Marie Curie, è estremamente dettagliata, è un libro piccolo ma pieno di fatti, di eventi, di date. Ed è una cosa talmente importante che la BBC ne ha ricavato una miniserie, una docu-fiction, ma in questo caso è un docu, cioè fiction solo perché non è un documentario con immagini di Marie Curie, ma c'è questa attrice che la interpreta ed è fatto benissimo questo. Dura cinque ore, sono tre DVD, si trova ancora, si trova solo in inglese però è sottotitolato, per cui se avete un po' di familiarità con l'inglese, con i sottotitoli ce la si cava bene, anche perché non è piena di urli, salti, schiamazzi vari come in film d'azione e quindi si segue bene. Questo è l'ultimo elemento della bibliografia che ho voluto usare, scritta almeno questa in Francia. È stata scritta da François Giroux, che è una persona molto importante perché è stata ministro per la condizione femminile con Chirac e ministro per la cultura con Barr, quindi c'è un taglio completamente diverso in questa biografia. Anche la Rai ha fatto uno sceneggiato su Marie Curie, si trova anche questo, questo in italiano ovviamente, è fatto bene però copre solo una parte molto limitata della vita di Marie Curie, fondamentalmente sulla vita e il lavoro insieme di Marie Curie, che sono pochi anni in fondo. Più le solite fonte con cui si completano le domande aperte. se avete letto, come dire, l'introduzione che compare nella stampa, sul sito eccetera, quello che vi sto per leggere, che è la sintesi, lo conoscete già, però lo leggiamo lo stesso. Marie Curie realizzò una serie di record. Fu la prima donna a ricevere un dottorato di ricerca in Francia nel 1903. Fu la prima donna a vincere un premio Nobel nelle scienze. Fu il premio Nobel per la fisica nel 1903 insieme a suo marito e a Henri Becquerel. È stata la prima donna professore universitario in Francia. Nel 1906 fu chiamata come assistente alla Sorbonne, nel 1908 le fu date la cattedra. È stata la prima e unica e ancora l'unica persona, uomo o donna che sia, vincere due premi Nobel in due scienze diverse, fisica nel 1903 e chimica nel 1911. Che io sappia c'è una sola altra persona che ha vinto due premi Nobel, che è Linus Paulin, che però ha vinto uno per la pace, l'altro per la fisica, quindi non sono due scienze diverse. È stata la prima donna sepolta nel Pantheon a Parigi per meriti propri, nel 1995. Il che vuol dire che non è che la Francia abbia celebrato molto le donne se solo nel 1995 ha messo la prima donna lì. In realtà ce n'è una prima di Marie Curie, ma non per meriti propri, solo per essere la moglie di una persona importante e allora non conta. Ma ci sono purtroppo una grande quantità di difficoltà e di tragedie personali. La perdita quando era ancora una bambina di sua sorella maggiore nel 1875 e della madre nel 1878. Nel 75 Marie Curie aveva 9 anni, nel 78 ne aveva 11. La proibizione degli studi universitari alle donne nella nativa Polonia, che però non esisteva perché era sotto la dominazione zarista, perché la Polonia era stata divisa tra impero austro-ungarico, Russia e non c'era più la Polonia. È per quello che andò a Parigi, perché non poteva neanche studiare Polonia geografica, perché non c'era, ripeto, come nazione. La perdita della seconda figlia del 1903, nata viva ma morta subito dopo la nascita. La morte prematura del marito nel 1906 in un incidente, restando vedova a 39 anni. E la misoginia dell'ambiente accademico francese, ma non solo quello, che comunque nel 1911 le rifiutò l'ammissione all'Académie des Saints, quando aveva già due premi Nobel. Adesso la prima parte era fino ai 24 anni, cioè quando lei era in Polonia, nella Polonia zarista. Polonia come geografia, zarista come, diciamo, regime. Ecco, era lì, Varsavia, lei è nata lì, in una provincia della Russia, durante quel periodo era proibito l'uso del polacco nelle scuole, non si poteva parlare polacco. Non c'erano i laboratori nelle scuole, erano proibiti sempre del regime zarista, ovviamente non a Pietrogrado o chissà dove, ma nelle terre occupate. Ed era proibito l'accesso delle donne all'università. Dunque, lei, Maria Salomea Skłodowska, nasce il 7 novembre del 1867. È la quinta e ultima figlia di questa signora, Bronisława Boguska, che gestiva un collegio per ragazze, e di Wadisław Skłodowski, che era laureato in fisica a Pietrogrado, direttore di una scuola superiore per ragazzi, insegnante di matematica e fisica. La famiglia comprendeva questi cinque bambini, quattro femmine e un maschio. La prima, quella sinistra, fu quella Zosia o Zofia, che morì bambina. Un elemento caratteristico della proprio educazione che ha ricevuto, come anche fratello e sorelle, è che i genitori consideravano l'istruzione essenziale e si impegnavano personalmente al di là e soprattutto perché c'erano le limitazioni imposte dal regime zarista nelle scuole e quindi loro integravano in casa per i figli. Skłodowski, che era molto blandamente ma un po' un patriota, subì discriminazione. A un certo punto fu rimosso dalla direzione della scuola, il suo posto fu dato a un russo che poi di lì a poco lo licenziò, così perse anche l'alloggio nella scuola a cui aveva diritto, dovette andare in affitto, aveva a me molto pochi soldi e arrivò a dover tenere in casa fino a dieci ragazzi affittuari per fare quadrare il bilancio. Tra disgrazia appunto nel 1875 morì di tifo, la figlia più grande, e la moglie morì di tubercolosi a 42 anni. A questo punto lui rimasto vedovo dedicò tutto il tempo a istruire i figli, non solo in matematica e fisica, ma anche in poesia, letteratura polacca e letteratura straniera. E Maria le fu legatissima, rinunciando quasi a studiare a Parigi quando venne il momento per non separarsi dal padre che lei pensava che avrebbe avuto bisogno di lei. E chi era Maria? Questa la vediamo giovanissima, adolescente. Anche lei era convintissima dell'importanza assoluta dell'istruzione che perseguiva con impegno, con successo, per essere utile non solo a se stessa ma alla patria e alla società. Come vedremo è una cosa molto profonda in lei. Lei fu sempre prima della classe, imparò il russo, il francese, il tedesco e in seguito anche l'inglese, più il polacco ovviamente. Dicevamo era patriotica, però non è mai stata rivoluzionaria, era pragmatica, era inutile fare scenate, assalti, manifestazioni perché si finiva male e basta. Sul tema religioso lei ebbe indicazioni contrastanti perché la madre era devotissima e il padre molto poco. E lei per un po' fu molto religiosa, fino alla morte della madre, perché già la sua fede si incrinò con la morte della sorella, con la morte della madre, lei prima che morisse pregava intensamente e soprattutto lei offrì la sua vita in cambio di quella della madre. Lo volle, lo volle, pregò così, quando la madre morì lei disse vabbè ho capito, non mi dai retta, non ne voglio più sapere e così fu. Adesso entriamo in una parte diciamo meno personale, più viva, cioè di fatti. Lei finisce il liceo a 15 anni, come capite, prestissimo, con il massimo dei voti, medaglia d'oro eccetera. Dopodiché per un anno sta in campagna da certi parenti. Questo è l'unico periodo della vita di Maria che, in cui lei semplicemente si rilassò, si divertì, passò il suo tempo serenamente senza chiedersi, addirittura pensando a danze, pensando ad amicizie. Un unico, veramente insolito periodo. Però nel 1983, quindi adesso ha solo 16 anni, rendendosi conto, adesso è finito il divertimento, devo andare all'università, ma non posso andare all'università perché le donne non possono andare all'università nella Polonia occupata dal regime zarista, si mette d'accordo con sua sorella, Bronia, che è la seconda più anziana, che ha due anni più di lei e decidono andiamo a studiare a Parigi. È difficile pensarci, io sono a Varsavia, vado a Parigi, buh, non lo so, grande entusiasmo. I soldi non ci sono e allora Maria dice a sua sorella Bronia, Bronislava, il suo nome intero, non pensarci, io adesso vado a fare l'istitutrice, do lezioni private, ti do i soldi perché tu che sei più anziana di me e vado a Parigi e studi medicina. Quando tu finisci, con i tuoi soldi chiami me e io studio a Parigi, così mi ricompensi. E così fa, dal 1886 al 1891, lavora come istitutrice in tre famiglie benestanti, mentre dà lezioni private pure. Il più importante di questo periodo, come istitutrice, dura tre anni e a questo posto si chiama Sciucchi, a tre ore di treno da Varsavia, presso questa ricca famiglia, Zoravski. Questa era la casa degli Zoravski e lì lei è talmente patriotica che nel tempo libero insegna gratuitamente ai bambini del villaggio. Perché? Per insegnargli a leggere e a scrivere in polacco, perché nelle scuole non si può usare il polacco, si può solo usare il russo. Ma lei dice, vuole integrare, quindi fa anche questo. E in più studia in proprio, perché sa di non sapere, sa che ha tanto da imparare ed è un po' di battuta perché le interessa la letteratura, le interessa la sociologia, le interessano le scienze. Alla fine dice, scienze, ma c'è un problema, un problema molto normale, che si innamora di questo signore qui, di Kazimir Zoravski, che la ricambia, lui ha un anno più di lei, è studente a Varsavia, torna per le vacanze e vabbè. Ma naturalmente la ricca famiglia dice al figlio, ma tu sei scemo, questa non ha dote, tu sei ben altra cosa, puoi aspirare ben di più, toglitela dalla testa. E chiamano Maria e dice, guarda che se tu non smetti di avere qualunque pensiero, se scrivi soltanto, se cerchi di comunicare con lui, ti licenziamo. Eh, lei non può rinunciare del suo stipendio, lui, erano anche tempi diversi, non ha la forza di opporsi ai suoi. Quindi la storia d'amore finisce. Maria appena può, comunque sono passati tre anni, torna a Varsavia, dove fa sempre l'istitutrice, una famiglia ricca, dove non ci sono complicazioni di questo tipo. E nel 1890, quindi quando Maria ha 23 anni, è nata nel 67, Bronia, che è sposata, che è un medico, è sposato un medico di origini polacche, anche lui, Zuzki, Kazimierz Zuzki, chiede a Maria di andare a Parigi. Ma Maria, i soldi le darà a Bronia, però lei dice, ma no, forse non ne ho abbastanza e soprattutto non vuole lasciare il padre. Il padre però capisce che questo è un sacrificio troppo grande per sua figlia e quindi pur essendo in pensione riesce a trovare un lavoro per integrare la pensione e per dare a Maria quanto basta per partire per Parigi. Finiscono i primi 24 anni, 1891-1895, è il momento in cui Maria Skłodowska diventa Madame Curie, non immediatamente, sono quattro anni. questo è Parigi nel 1889, due anni dopo Maria Valie. E scrive, e questo nella sua autobiografia, fu così che nel novembre 1891, all'età di 24 anni, potrei realizzare il sogno che da molti anni era costantemente presente nella mia mente. Studia, studia, studia terribilmente, vedete com'è molto dimagrita rispetto a quando era un adolescente, perché? Perché studia troppo, dorme poco e mangia poco. Si iscrive alla Sorbona e studia fisica, chimica e matematica. Inizialmente sta da sua sorella, ma poi si rende conto che non riesce a studiare abbastanza, che il posto di sua sorella non è abbastanza vicino all'università e quindi si trasferisce in una soffitta, letteralmente in una soffitta, al sesto piano ovviamente non riscaldato, si trascina sull'acqua, si trascina su il carbone, peraltro di carbone ne ha poco perché di soldi ne ha pochi, ghiaccia l'acqua nel lavabo, si butta sul letto tutto quello che ha quando dorme, il poco che dorme. Poi, mentre studia, dà lezioni private e nel 1893, quindi due anni dopo, tiene una piccola borsa di studio, che si chiama borsa di studio Aleksandrovich, che è per giovani polacchi che studiano all'estero. Sono pochi soldi, ma lei intende farli durare 15 mesi e ci riuscirà. E quando riuscirà a incominciare a lavorare? Appena mette da parte 600 rubli, li restituisce alla fondazione Aleksandrovich, dice dateli a qualcuno che ha più bisogno di me. Mi sono stati utili, però adesso li restituisco. E questo dà già un po' l'idea del personaggio. È sempre più immersa nello studio. All'inizio aveva qualche svago frequentando comunità di polacchi a Parigi. Ma un po' per dedicarsi allo studio, un po' perché suo padre le scrive, perché lo viene a sapere, dice guarda che ci sono spiezariste dappertutto. Se ti vedono frequentare quella gente lì, tu in Polonia non torni più. Perché questo era già successo al marito di Bronia, che avendo avuto una storia un po' di patriottismo vagamente rivoluzionario, non poteva più rientrare in Polonia perché sarebbe stato arrestato dalla polizia zarista. Comunque lei ne approfitta per ferrea negazione, studio intenso fino a tardanotte, si dimentica di mangiare, dimagrisce, sviene addirittura durante le elezioni, mette a rischio la sua salute. Eppure nel diario scrive quel periodo di solitudine dedicato esclusivamente agli studi, resterà per sempre uno dei ricordi più belli della mia vita. Nel 1893 si laurea in fisica a 26 anni, prima nel suo corso, 26 perché è partita tardi, veniva 24 quando è incominciato. L'anno dopo si laurea in matematica, seconda nel suo corso. Già dopo la prima laurea si mette a lavorare nel laboratorio industriale di questo professore, Gabriele Lipman, che lavora sul magnetismo degli acciai, fanno un progetto per l'industria praticamente. Questo è il signor Lipman, che è un professore a cui tempi si facevano quei baffi lì, quelle barbe lì, fa un po' impressione ai giorni nostri, no? Prenderà a sua volta un Nobel per la fisica nel 1908. Ma il progetto che Marie sta sviluppando per Lipman richiede di più spazio. Non ne ha abbastanza, lei chiede in giro, incontra sempre in questa comunità polacca, questo professor Kowalski, che in realtà insegna a Friburgo, gli chiede dove potrebbe avere spazi. Lui è in contatto con un altro fisico che si chiama Pierre Curie e gli dice senti, ti presento questo signore che forse ti può aiutare. Ed ecco come per caso si incontra. Ma chi è Pierre Curie? perché è interessante sapere chi è lui. In questa foto, questo è il padre, la madre, Pierre e suo fratello Paul Jacques, che è maggiore. I Curie sono alsaziani protestanti, insoliti quindi in Francia, la Francia non è tipicamente così, ma sapete che Alsazio e Lorena sono state combattute nel corso dei secoli tra Germania, Francia. Il padre, Jean Curie, è un medico libertario, ateo, combatté e fu ferito nei moti del 1848. Il nonno paterno, Paul Curie, era medico a sua volta umanista, quindi insomma è una famiglia istruita, parliamo del 1700-1800, medici. La nonna paterna, Augustine Hoffer, capite che il nome appunto è alsaziano, aveva antenati illustri, che erano l'industriale Jean-Henri Dolphus, che fece di Mulhouse un centro motore dell'industria tessile europea, e ancora più impressionante, magari per i fisici, era parente dello scienziato e matematico Johann Bernoulli, che contribuì allo sviluppo del calcolo infinitesimale e che fu insegnante del giovane Eulero. Pierre non andò a scuola, fu istruito privatamente dal padre finché andò all'università e ci andò così presto che a 18 anni era già laureato in fisica alla Sorbona. Pensate che Marie ci è arrivata a 26 anni a laurearsi in fisica alla Sorbona. insieme al fratello Paul Jacques sviluppano e fanno importanti scoperte in cristallografia e piezoelettricità, inventando l'elettrometro piezoelettrico al quarzo, che è un componente che rientra già ancora oggi negli oscillatori a cristallo. Pierre però è uno che è un po' fuori dal mondo, non fa il dottorato di ricerca, o meglio lo inizierà ad un certo punto nel 1891, se ne ho, il 91 vuole dire essendo nato nel 59, 32 anni, ma si era laureato a 18, quindi in un certo senso ha buttato via del tempo, non ha fatto carriera. E l'unica cosa che a a un certo punto nel 1884 è entrato in questa cosa, la leggiamo una volta per tutte, l'Ecole Supérieure des Physiques Chimie Industrielles de la Ville de Paris, ESPSI. Però come capo laboratorio, non fa carriera per dieci anni, approfitta però del tempo libero per continuare a studiare, in particolare, le simmetrie dei cristalli. E solo nel 1891 inizia con molta calma il dottorato sulla dipendenza del magnetismo dalla temperatura. Ma vediamo invece l'impressione che ha Marie di Pierre. Notate che adesso la chiamo Marie da quando va a Parigi perché effettivamente lei stessa non si fa più chiamare Maria o Maria ma si fa chiamare Marie. Quando si incontrano a Piera 35 anni, Marina è a 27 e lei scrive, sempre nell'autobiografia, lo leggete, l'espressione seria e gentile del viso, una certa non curanza di modi, davano l'idea di un sognatore immerso nei propri pensieri. Mi manifestò una cordialità spontanea e fece un'impressione di grande simpatia. Espresso il desiderio di rivedermi e di continuare la conversazione su argomenti a carattere scientifico e sociale, cui eravamo interessati e avevamo opinioni simili. Venne a farmi visita nella mia stanzetta e diventammo buoni amici. Mi raccontò le sue giornate, piena di lavoro, il suo sogno di un'esistenza interamente votata alla scienza. Non passò molto tempo che mi chiese di condividere quell'esistenza, ma io non riuscì a decidermi. Esitavo di fronte a una scelta che avrebbe significato abbandonare la mia patria e la mia famiglia. Partii per le mie vacanze in Polonia ignorando se sarei più tornata a Parigi. Questo è il 1894, lei ha 27 anni. Dal 94 al 95 si passa dalla lontananza al matrimonio. Quali sono i passi? Per prima cosa Pierre dice, vabbè tu vai in Polonia e vengo anch'io. Dice no no no, la Polonia è arretrata, tu non puoi sacrificare il tuo dottorato, tutto quello che sei per venire in un paese così che non è tuo, che non puoi capire, che non... vabbè. Maria in Polonia cerca un lavoro, in particolare chiede all'Università di Cracovia una posizione di insegnante, ma nonostante le due lauree alla Sorbona l'università dice una donna no grazie. Quindi lei si trova che in effetti non c'è sbocco in Polonia per cercare di fare quelle cose che l'abbè voluto fare. Tenete conto? Io dico sempre Polonia, ma è sempre il regime zarista, perché le cose cambiano solo dopo la rivoluzione del 17, quando frana tutto il... quindi la grande guerra e tutte queste cose qui. Pierre scrive a Marie, in realtà ci sono tante lettere, non una sola, dice torna e prenditi un dottorato anche tu. Marie dice vabbè, ok. Pierre stesso a 36 anni, siamo nel marzo del 1995, finisce il suo dottorato e con risultati molto importanti questa legge e temperatura di Curie sui gli acciai, sul paramagnetismo, scusate, tuttora valida e interessante. A questo punto Pierre rinnova Marie l'offerta e lei dice ma sì, così si sposano il 26 luglio del 1895. Si sposano come? Rito civile, niente anelli, Assau, che è dove abitano i genitori di Pierre, e ora lei è Madame Curie, questo nome così noto, no? Poche persone sono invitate alla cerimonia, pochi amici, il padre di Marie e una delle sue sorelle, Elena, che erano venuti da Varsavia. Viaggio di nozze, come? In bicicletta, perché uno dei parenti gli aveva regalato un po' di soldi, proprio cassa, con le quali si comprano due biciclette e vanno in viaggio di nozze. Dopodiché vanno a abitare in un appartamentino di tre stanze, dato che Pierre ha pochi soldi e non si cura di carriere e denaro. Per loro c'è una cosa dominante, che è il lavoro scientifico, per loro una priorità assoluta, lui sui cristalli, la pieza elettricità, il magnetismo, lei? Non lo sappiamo ancora. E adesso facciamo uno stacco, lo stacco per dire ma che cosa si sapeva quando Marie Curie iniziò il suo dottorato? Allora, ovviamente le conoscenze erano estremamente limitate. Vigeva ancora il modello atomico di Dalton, che era stato sviluppato nel 1803, secondo il quale la materia è fatta di atomi indivisibili, indistruttibili, non mutabili gli uni negli altri. Quindi conosci, oggi diciamo 92 elementi fino all'uranio, quelli che si conoscevano allora, poi ne parliamo, tutti diversi uno dall'altro, indivisibili, cioè delle cose uniche. Nel 1871 Mendeleev aveva sviluppato la sua tavola periodica, che consente di classificare gli elementi noti, ma anche di ipotizzare l'esistenza e le caratteristiche chimiche di elementi non ancora scoperti. Quindi quando Marie inizia le sue ricerche, sono noti 76 elementi, fino al 92esimo che è l'uranio. Non è ancora nota nessuna particella elementare. L'elettrone sarà scoperto nel 1897 da J.J. Thompson, che prenderà il Nobel per la fisica nel 1906. Il protone sarà scoperto nel 1919 da Rutherford, Nobel per la chimica nel 1908. Il neutrone nel 1932 da Chadwick, Nobel per la fisica nel 1935. Non è ancora stato ipotizzato il nucleo atomico, lo farà Rutherford nel 1911. E Marie Curie è affascinata dalle scoperte recenti di Röngen e di Becquerel. Che cosa sono queste cose qua? Che affascinano Maria. Röngen, questo signore qui, scoprì i raggi X. Era nato in Prussia, studiato un po' in giro in Olanda, Zurigo, mentre era a Würzburg. Scopre che i tubi catodici emettono una radiazione che attraversa ostacoli e impressiona lastere fotografiche. Non sapendo che cos'è la chiama X, come l'incognita della matematica, no? Raggi X. Che cos'è, Boo? Per la sua scoperta Röngen riceverà il primo dei premi Nobel per la fisica nel 1901. Adesso sotto spieghiamo l'arcano, no? Questo qui non lo sapevano, ma noi lo sappiamo. I raggi X sono radiazione elettromagnetica di alta energia emessa in salti quantici di elettroni che vanno a riempire orbite interne di atomi. Tutto questo fa parte di una cosa che si chiama fisica atomica, non nucleare, atomica. Ed era ignota quando Röngen scoprì i raggi X. Ci vogliono molti anni prima di arrivare lì, modello di Bohr e un sacco di altre cose. E questa è la prima radiografia sulla destra, una macchina in cui Röngen fece la radiografia alla mano di sua moglie, Berta, che ne rimase un po' malaccio. Dio, vedo me stessa da morta, disse, quando l'anello, vedete, ce l'aveva. Questo invece è Becquerel. Becquerel scoprì che cosa? La radioattività naturale. Che cosa vuol dire? Lui, Becquerel, nel 1896 cercò di replicare i risultati di Röngen, non con un tubo catodico, quindi con energie elettriche eccetera, ma con i sali di uranio perché avevano notato che i sali di uranio diventano fosforescenti se eccitati da luce intensa. Ma Becquerel nota, perché a un certo punto li prende questi sali di uranio e li mette in un cassetto chiusi per sei mesi, al buio, quindi senza fonte esterna di energie, ma dopo, sempre al buio eccetera, nota che continuano ad essere fosforescenti. Quindi non è la luce intensa che eccita i sali di uranio, ma in un contesto, modello di Dalton, in cui gli atomi sono immutabili, indivisibili, questo contraddice il principio di conservazione dell'energia. Da dove viene questa roba qua? Prima si pensava, beh, assorbono la luce e poi dopo la riemettono in un altro modo. E invece così no. La verità è che i raggi di Becquerel sono nuclei di elio, elettroni, positroni, raggi gamma emessi nel decadimento spontaneo, radioattività naturale, di nuclei atomici instabili, in questo caso uranio. Tutto ciò fa parte della fisica nucleare. Mentre il lavoro di Röntgen aveva a che vedere la spiegazione del lavoro di Röntgen con la fisica atomica, questo invece ha a che fare con la fisica nucleare. Ed era totalmente ignota al tempo in cui Becquerel ne osservò gli effetti, perché non sapevano neanche le particelle elementari e non sapevano neanche che esisteva un nucleo. Allora, scusate, l'uranio. Ci fermiamo un momento per dire due cose sull'uranio, visto che poi se ne riparla. L'uranio si estrae da vari minerali, ma soprattutto dalla Pecblenda. A92 protoni, che è il numero massimo per gli elementi naturali, esiste in natura in tre isotopi. Isotopi sono lo stesso elemento, ma con numero di neutroni diversi. Protoni uguali, neutroni numero diverso. 238 è il più comune, 235 è quello fissile per le bombe, e peraltro 234 è molto molto raro. Quando l'uranio è arricchito, cioè con percentuali maggiori di uranio 235, si fanno le bombe, un po' meno ricco si fanno i combustibili per le centrali nucleari, e quando proprio è spento, impoverito, si fanno i proiettili per perforare i mezzi corazzati, perché è duro, denso e prende fuoco per impatto. Avete sentito le polemiche ai tempi della guerra in Iraq, poi si dice che questo tipo di proiettili poi ha creato cancro su chi li usava, e tutto quello che si. In una maniera ancora un po' più dettagliata, ma solo per ricordare alcuni concetti che ritornano, ricordiamoci che il numero atomico è il numero di protoni nel nucleo, quindi 92 nel caso dell'uranio, che il numero di massa è la somma del numero dei protoni e del numero dei neutroni, che possono essere, come abbiamo visto, a seconda degli isotopi, 238, 235, o altri ancora vedremo, gli isotopi appunto sono lo stesso elemento, ma con un numero di neutroni diverso, e il decadimento radioattivo è quel processo, i più comuni sono detti alfa e beta, ma c'è anche gamma, delta e tutto il resto, per cui un isotopo instabile cambia il numero di protoni e neutroni, divenendo un isotopo in un elemento diverso. Alchimia si sarebbe detto allora. E il tempo di dimezzamento è il tempo nel quale metà dei nuclei subisce il decadimento radioattivo. Questa tabella qui, che vale per l'uranio, partiamo dal 238, che è il, abbiamo detto, di gran lunga il più comune, ha un tempo di dimezzamento di 4,5 miliardi di anni, più o meno all'età della Terra. Però non è che sta lì e non succede niente, gli atomi sono tantissimi, quindi decade in continuazione, però una certa quantità decade in quel tempo lunghissimo. Il successivo, il 235, invece decade in 700 mila anni, tempo di dimezzamento sempre, non è la sparizione totale. Non vi ho detto che la forma di decadimento è un alfa, che vuole dire che un atomo di elio, quindi due neutroni e due protoni se ne vanno via, tant'è vero che l'uranio 238 diventa torio 234. E via, inutile andare. Tutti gli altri sono sintetici, vedete, sono tutti isotopi, 230, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 40. Alcuni di questi hanno dei tempi di dimezzamento ridicoli, 23 minuti, questi giorni, alcuni, insomma c'è di tutto. Le forme di decadimento sono per lo più alfa, c'è un beta, c'è un epsilon. Questo è il massimo di difficoltà che affrontiamo. Adesso parliamo, torniamo nella storia. E qui diventa molto, direi, interessante, no? Come si dice scherzando, l'intreccio si infittisce. Marie, a 29 anni, inizia il suo dottorato e sceglie di lavorare sui raggi di Becquerel. Si chiamavano i raggi di Becquerel. Perché? Perché in realtà la stragrande maggioranza dei ricercatori, in quei tempi, lavorava sui raggi X di Röntgen. Perché già si pensava alle geografie, a cose così. Lei invece intuì che c'era molto da scoprire nei raggi di Becquerel, che Becquerel stesso aveva quasi abbandonato. Non capivano che cosa fosse, sì, è molto interessante. Avevano anche cercato di fare delle immagini, ma le immagini fatte con i raggi X sulle lastre erano molto ben definite, mentre quelle fatte con i raggi di Becquerel erano una specie di nuvole grigiastre poco alte. Comunque Marie inizia e trova uno spazio per lavorare in questo ESPSI dove lavorava Pierre, che gli ha trovato un piccolo spazio. Questo è il suo apparato, l'apparato che usava Marie, in cui metteva, questa è la camera di ionizzazione, e qui metteva dai sali di uranio. Ricordate che Becquerel lavorava sui sali di uranio e attraverso il sistema, l'elettromero piezoelettrico inventato da Pierre riusciva a misurare la debolissima corrente generata dai sali di uranio qui che andavano a, avendo come controbilanciamento l'effetto di un cristallo piezoelettrico e qui c'era questo oggetto che si muoveva che indicava su questa cosa graduata questa quantità di corrente. E che cosa scopre come primo risultato? Il primo risultato che Marie ha è un risultato importante, dice che la corrente misurata dipende solo dalla quantità di uranio nella camera di ionizzazione, non da altre proprietà fisico-chimiche, sali differenti, ma solo quanto uranio c'è lì. Marie lavora con grande impegno, è il primo anno, ma a 30 anni è incinta e purtroppo è una cosa con difficoltà. Lei sta molto male e nonostante la sua volontà deve rinunciare al lavoro per molti giorni. Nel frattempo si ammala di cancro la madre di Pierre. Pierre è molto legato alla madre, passa settimane al capezzale della madre che via via si spegne. All'ottavo mese di gravidanza i problemi della gravidanza sono passati, Pierre si è rassegnato al fatto che la madre ha poco da vivere, tirano fuori le biciclette e vanno in vacanza per qualche giorno. Ma le doglie colgono Marie per strada e Pierre deve correre a cercare un medico. Il 12 settembre nasce Irene Curie. Pochi giorni dopo muore la madre di Pierre. Questa è una foto fatta decisamente dopo, ma non ho trovato foto più recenti. Quella comunque è Irene. Con Irene c'è tanto da lavorare in casa. Allora i Curie assumono una domestica perché Marie possa occuparsi almeno un po' di Irene quando non sta lavorando. Inoltre viene in aiuto il nonno che essendo il papà di Pierre che essendo diventato vedovo si occupa di Irene quando Marie non c'è. Nel frattempo Marie sta andando avanti. Dopo aver usato i sali di uranio adesso lei decide che cerca se ci sono altri elementi radioattivi oltre all'uranio radioattivi. Ho commesso un piccolo errore perché in realtà a fine 1897 la parola radioattivo non è ancora stata inventata perché la inventano i Curie a metà del 1898. Quindi non avrei dovuto usarla fino a un paio di slide ancora. Allora adesso sempre lo stesso esperimento però ci mettiamo tutti gli elementi che riesco a recuperare elementi noti naturalmente e così facendo Marie trova che anche il torio è radioattivo. Sarebbe una scoperta importante ma in realtà era stato già trovato due mesi prima già pubblicato due mesi prima da Gerard Schmidt a Berlino. Marie non lo sapeva non c'era internet non c'era la possibilità di sapere subito che cosa si faceva in altre parti del mondo. Vabbè, comunque è un risultato importante. Breve accenno su che cos'è il torio. Il torio è un numero atomico 90 quindi ha due protoni meno dell'uranio. Il torio e uranio sono gli unici soli elementi radioattivi abbondanti in natura. L'isotopo più importante è il torio 232 quindi 142 neutroni oltre ai 90 protoni che ha un tempo di dimezzamento di 14 miliardi di anni che oltre a essere quasi il triplo dell'età della Terra è anche più o meno l'età dell'universo. Più o meno. Per quello che si sa o si crede di sapere. Il torio non va bene per le bombe però può andare bene per le città nucleari. Purtroppo, e qui veramente c'è da sgomentarsi o da ridere, ma più da sgomentarsi che da ridere era stato usato fino agli anni 30 sarà usato perché qui siamo ancora nel 1897 perché? Perché c'è sempre qualcuno che ha delle idee brillanti. Una cosa radioattiva è interessante perché è fosforescente quindi lo usavano per queste specie di mantelli sopra le lampade a gas perché aveva una luminescenza superiore. Non solo, ma per esempio qualcuno si è inventato l'idea che i denti sono più bianchi se metti un po' di torio nel dentifricio e hanno fatto questa cosa qui. Ma dato che le ragazze piacciono essere belle c'è anche il rossetto che si chiama to-radia con componenti ma la cosa più terribile oltre che costosa ma ne vedremo di peggio vendevano queste meravigliose boccette di acqua radioattiva per la tua salute beviti acqua radioattiva invece che le bollicine chissà che questo qui certificato acqua radioattiva contiene mesotorio acqua distillata si chiama raditor pensate un po' chi poteva permetterso questa roba qui colpiva solo chi poteva permetterso di comprarsi l'acqua radioattiva da bere Marie fa un'altra cosa e qui comincia è dove incomincia a trovare quello che poi le varrà i Nobel la fame e tutto il resto lei dice ma io adesso voglio misurare sempre con il suo esperimento sempre misurare la radioattività in realtà la corrente nella camera di ionizzazione mettendo non i sali di uranio non gli elementi tutti quelli che trovo ma il minerale uno dei minerali in cui si trova l'uranio la pecblenda e che cosa trova? trova che la pecblenda emette radiazioni di intensità quattro volte maggiore rispetto all'uranio che contiene come è possibile? e beh vuol dire che nella pecblenda c'è qualche elemento sconosciuto che è più attivo dell'uranio che emette radiazione più radioattivo emette più genera più corrente in questo schema dunque che cosa si nasconde nella pecblenda? e qui incomincia la caccia al tesoro e la caccia al tesoro è così interessante che prima di questo Marie lavorava da sola Pierre parlava però consigliava si confrontavano ma lui lavorava sul magnetismo sui cristalli però quando viene questa cosa lui dice no 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 io basta con i cristalli lavoro con te e cerchiamo di capire che cosa viene fuori in questa tua scoperta e questo è il quadriennio fondamentale 1898 1902 scoperta del polonio e scoperta isolamento del radio il processo di separazione all'interno della pecblenda è un processo noiosissimo ripetivo è un processo chimico però a ogni ciclo di purificazione la radioattività aumenta in realtà specifica si intende questo qualcosa che si sta cercando appare legato al bismuto però il bismuto non è radioattivo per niente quindi la radioattività può solo essere di quell'altra cosa sconosciuta il 6 giugno la radioattività alla massima purificazione raggiunta è 330 volte maggiore di quella dell'uranio i qui richiamano il nuovo elemento polonio in onore della Polonia e nell'articolo in cui annunciano la scoperta del polonio coniano la parola radioattività da qui in poi abbiamo diritto siamo legittimati ad usarla che cos'è il polonio? polonio ha 84 protoni è estremamente raro ed estremamente radioattivo l'unico isotopo esistente in natura che peraltro sono solo tracce è il polonio 210 in 10 tonnellate di Pecblenda c'è un milligrammo di polonio i curi poterono scoprirlo ma non isolarlo perché oltretutto il polonio ha un tempo di dimezzamento di 138 giorni se pensate ai 4,5 miliardi di anni dell'uranio 238 la radioattività del polonio è così elevata che 3 miliardesimi di grammo di polonio sono fatali se ingeriti o inalati ma non è facile trovare del polonio in giro però se vi ricordate un caso di qualche anno fa quel famoso spia ex KGB ex chissà cosa Litvinenko fu avvelenato con tipo 10 milionesimi di grammo di polonio nel suo tè e morì di lì a qualche giorno in ospedale ma 10 milionesimi di grammo di quella roba lì è una quantità talmente elevata che si dice che solo una nazione può disporre di una quantità così elevata di polonio poi mi chiedo come l'hanno portata in giro anche perché quello che è la versata non lo so non deve essere una cosa facile bene dicembre 1898 eravamo a giugno col polonio cosa succede che dopo avere privato il composto di bismuto e polonio la PEC Blender è ancora radioattiva c'è qualcos'altro ed è legato al bario a dicembre la radioattività del composto di bario è 900 volte maggiore di quella dell'uranio i CRI chiamano radio dal latino radio un raggio il nuovo elemento per provarne l'esistenza si affidano a un loro amico chimico che si chiama De Marseille che dispone di uno spettroscopio che è questa roba inventata da Kirchhoff e Bunsen che serve per identificare gli elementi attraverso le righe spettrali specifiche notate che loro avevano lo spettroscopio ma non sapevano da dove venivano le righe perché non avevano la conoscenza della fisica atomica degli elettroni e tutto il resto dei salti quantici e compagnie comunque De Marseille fotografa lo spettro di emissione ed è evidente che c'è una riga che può essere solo da questo nuovo elemento del radio la scoperta pubblicata il 26 dicembre 1898 temo che abbiano lavorato anche il giorno di Natale allora questo è un modo di presentare la tavola periodica degli elementi perché nonostante la spettroscopia scienziati chimici non sono mica convinti di questa storia del radio per convincerli che Uri dovranno isolarlo stabilirne il peso atomico e collocarlo nella tavola periodica degli elementi ci metteranno quattro anni per farlo Marie sviluppa questo processo di cristallizzazione frazionata del bario che serve per isolare questo famoso radio ma lei non sa quanto poco radio c'è nella Pecblend prova con 100 grammi ovviamente non trova niente nella sua autobiografia Marie scrive che se avesse saputo quanto poco radio c'era nella Pecblenda non avrebbero neanche avuto il coraggio di incominciare ma incominciarono non hanno finanziamenti ottengono da una miniera in Austria di ricevere tonnellate di scarti di minerale mischiati a terriccio a ghilipino e così via e si mettono a cercare di raffinarlo di estrarre questa cosa qui hanno bisogno di spazio e trovano lo trovano glielo trova a Pierre sempre in ESPSI un deposito freddo pieno di spifferi in cui piove dentro che era stato usato in tempi precedenti come aula di anatomia pensate un po' questa roba qui ed è qui che loro faranno l'isolamento del radio è un lavoro pesantissimo si fa lotti di 20 kg che vengono fatti bollire mischiati stazionati tutto vi risparmio tutte queste cose sono anni fate cosissimi ma il radio affascina e Marie scrive nella sua autobiografia questa cosa una delle nostre gioie era recarci di notte nel laboratorio dappertutto scorgevamo debolmente illuminate boccette dei nostri prodotti una vista incantevole sempre nuova per noi sembravano tenui luci fiabesche oggi sappiamo che se noi vedessimo una roba del genere scappiamo a gambe elevate ma loro non lo sapevano nel frattempo Pierre fa delle cose ancora più intelligenti interessanti misura la capacità dei cosiddetti raggi di attraversare ostacoli alcuni raggi sono fermati da foglie di carta altri attraversano barriere metalliche cioè i raggi sono alfa beta gamma quale roba lì alfa nuclei di elio beta elettroni gamma fotoni ma loro non avevano assolutamente idea erano solo i raggi e inoltre fa passare i raggi attraverso campi magnetici e osserva deflessioni in entrambe le direzioni certo perché gli alfa sono positivi i beta sono negativi e anche non deflessioni perché i gamma sono neutri inoltre loro che sono generosi regalano ad altri fisici in giro per il mondo campioni sempre più raffinati che quindi sono utilizzate da Becquerel stesso a Parigi da Mayer a Vienna da Thomas J.J. Thompson a Cambridge da Rutherford ed è Rutherford tra l'altro che inventa la denominazione alfa beta gamma Rutherford allora era in Canada poi dopo andrà a Cambridge dopo quattro anni di lavoro in questo pessimo posto i Curie ottengono 0,1 grammi di coloruro di radio da una tonnellata di Pecblenda misurano il peso atomico cade perfettamente 226 virgola qualcosa eccetera eccetera perché si trova nella Pecblenda il radio perché è un prodotto di decadimento dell'uranio l'uranio decade come vedremo tra poco in radio e poi in altre cose l'isotopo più abbondante in natura è il 226 con un tempo di dimezzamento di 1602 anni anche questo prima che si scoprisse che era pericoloso purtroppo fece volte vittime alcune tristissime come queste perché fu usato per le lancette degli orologi perché diventassero lubinescenti così le lavoratrici che dovevano verniciare con le lancette sottili usavano dei pennelli che affusolavano come magari facevamo non so voi capitava a noi alle medie quando si lavorava con le tempere a disegno e poi si venivano le labbra colorate ma quelli lì purtroppo assorbivano radio e finivano per morire di qualche cancro peggio però ma questo qui però se lo vogliono tirare proprio addosso è questa cosa qui il radio endocrinator un gadget costoso che costava allora tra 150 e 1000 dollari negli anni 20 era uso esclusivamente maschile e serviva a favorire in teoria ciò che in realtà distruggeva o peggio perché questo robo come dice le istruzioni andava portato qui sotto lo scrotto tenuto tutte le notti perché avrebbe dato chissà quali superpoteri sono morti tanti e comunque nessuno ha avuto grandi vantaggi vediamo adesso perché dicevamo che il radio è un prodotto di decadimento dell'uranio tutte queste cose qui ovviamente non ne avevano assolutamente idea ma l'uranio 238 emettendo un nucleo di elio diventatorio 234 4,5 miliardi di anni questo in soltanto 24,1 giorni decade in protoattinio attraverso un'emissione di un elettrone quindi guadagna un protone qui è perché un neutrone diventa un protone emette un elettrone e un antineutrino poi il protoattinio diventa un altro uranio sempre con beta che poi decade in torio che decade in radio radio 226 questo 245 mila anni questo 75 mila ma le particelle sono così tante che questi numeri no, sono significativi ovviamente ma non vanno pensati come devo aspettare tutto quel tempo ed ecco appunto come passa il ciclo veramente completo però non lo seguiamo per niente sarebbe questa roba qui che porta come risultato finale al piombo stabile tutti questi sono tutti isotopi radioattivi che in tempi o brevi o lunghissimi attraverso file incredibili la statua il polonio il bismuto il piombo il taglio il mercurio arrivano lì vi faccio notare però una cosa perché ci serve dopo il primo decadimento del radio 226 è il radon che è un gas perché servirà dopo è un gas radioattivo ovviamente però lo ritroviamo tra un po' queste sono altre forme di decadimento altre catene che portano da uranio o da torio un uranio diverso a un radio e così via è solo per mostrare quanto complicato è il processo ecco in questi quattro anni di grandissime scoperte la Francia è assolutamente matrigna verso i Quirì nel 1898 la Sorbona nega a Pierre la cattedra di fisica chimica nel 1900 l'università di Ginevra Ginevra Svizzera no? offre a Pierre una cattedra e un laboratorio e a Marie la direzione del laboratorio la Sorbona proprio per non far niente dice ma senti Pierre io però un assistentato te lo do Pierre cedendo in realtà le richieste di Marie non va a Ginevra resta a Parigi perché 1900 stavano ancora lavorando notte e giorno per la separazione del radio che era iniziata nel 1898 se avessero lasciato Parigi avrebbe dovuto ricominciare in un certo senso 1902 i suoi colleghi insistono con Pierre perché si candidi per l'Accademia delle Scienze la Chiamine delle Scienze francese è numero chiuso ci sono circa 60 accademici quando ne muore uno si apre un posto vacante i candidati devono andare in giro a parlare con gli altri 59 e per farsi votare una cosa che a Pierre proprio non viene bene di andare in giro a fare il postulante però insistono 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 lui si lascia convincere ma non viene eletto a questo punto il rettore della Sorbona il matematico Paul Appel cercando di volendo bene in un certo senso a Pierre dice guarda ti do la legion d'honneur ma Pierre dice no grazie la rifiuta dice tanto siete tutti dei buffoni non mi fate perdere tempo non mi interessa un'onorificenza e i Curie soffrono per le radiazioni i Curie avevano già scoperto avevano già pubblicato avevano già notato che la radioattività uccide le cellule tumorali più rapidamente delle cellule sane facendo nascere la speranza di curare il cancro tant'è vero che in Francia ancora oggi la radioterapia si chiama Curie terapie ma non sono coscienti dei rischi e lavorano senza protezioni da sette anni sono esposti alle radiazioni del radio e dell'isotopo del radio il radon di cui parlavamo prima in cui decade il radio dato che è un gas il radon l'aria stessa che respirano nel reposito mal ventilato è radioattiva soffrono di stanchezza opprimente a volte di letargia pensa che sia perché lavorano troppo Pierre soffre anche di forti dolori articolari che attribuisce reumatismi e che cura come tali in agosto Marie dà alla luce una bambina che nasce viva ma muore in pochi minuti Marie è distrutta e si incolpa di aver lavorato troppo invece probabilmente la bambina è stata esposta a queste radiazioni poi vedremo che non è matematico però vari ricercatori in quei tempi sperimentano su se stessi le radiazioni Pierre e anche altri Becquerel i tedeschi Valkov e Gisel tengono fiale di radio nel taschino qui e notano scientificamente il danno giorno per giorno arrossamenti bruciature cicatrici permanenti cosa si fa per la scienza Gisel in particolare nota che la sua retina vede una luce quando avvicina una fiala contenente composti di radio però con gli occhi chiusi e nota che il suo respiro è radioattivo perché scarica gli elettroscopi soffiandoci sopra eh ma non si sapeva niente però Pierre vorrebbe parlare che si parlasse di più Maria è totalmente contraria non vuole che si parli di questi potenziali rischi perché lei teme che la paura possa rallentare la ricerca sui fenomeni radioattivi sia in fisica che in medicina un po' sciagurata in questa oggi noi sappiamo questa è una tabella molto generale generica che dice che gli effetti biologici e radiazioni sono i due tipi somatici che colpiscono l'individuo esposto genetici quelli somatici ci sono alcune cose che sono deterministiche che sono appunto la radiodermatite l'infertilità la cataratta la sindrome e altri che sono probabilistici stocastici tumori solidi o leucemie non colpiscono tutti non colpiscono nella stessa maniera i genetici sono tutti stocastici perché possono portare mutazioni genetiche o alterazioni cromosomiche però a quei tempi pensavano che tutto finisse lì somatico deterministico radiodermatite sia ok ho una cicatrice perché tengo questa cosa qui bene 1903 dottorato e premio premio Nobel a 36 anni Marie ottiene il dottorato col massimo dei voti e degli onori alla Sorbona come relatore a Lipman vi ricordate quel signore portando i risultati delle sue ricerche la Royal Society di Londra invita Curie a presentare le loro ricerche dove però solo Pierre può parlare perché per consuetudine non si lasciano parlare le donne alla Royal Society tutte e due comunque prendono questa viene data la medaglia la Davy Medal di questo signore Sir Humphrey Davy chimico-fisico e arriva il premio Nobel 50% a Becquerel per avere scoperto la radioattività naturale 50% a Curie per lo straordinario contributo alla comprensione dei fenomeni radioattivi Becquerel ha 51 anni Pierre 44 Marie 36 pensate che non volevano darlo a Marie volevano darlo solo agli uomini però Pierre fu avvisato da un matematico svedese e allora chiamò l'Accademia svedese e disse se non lo date anche lei non lo prendo nemmeno io e loro cedettero e fu la prima donna a riceverlo però stanno così male che non possono andare a prendersi il Nobel perché non se la sentono di andare a Stoccolma e di dare la famosa come dire la conferenza Nobel riusciranno ad andarci due anni dopo sarà ancora una volta solo Pierre a parlare ma evidenzierà anche i meriti soprattutto i meriti di Marie e questo è il diploma del Nobel un'altra parentesi generosità malposta dai Curie malposta ovviamente punto di domanda questo viene dal diario dall'autobiografia non diario l'autobiografia di Marie loro non hanno mai brevettato le loro scoperte perché fossero disponibili a tutti fecero bene? pensate che nella storia della fisica un caso opposto è quando Fermi e i ragazzi di Via Panisperna brevettarono l'uso dei neutroni lenti la scoperta dei neutroni lenti tant'è vero che negli anni 50 ciascuno di loro prese l'equivalente di 250 mila dollari dal governo degli Stati Uniti dopo un'inerrabile battaglia legale preso tutti tranne Pontecorvo perché era scappato in Unione Sovietica comunque questo scrive Marie Curie il prezzo del radio è altissimo e i profitti questo dopo era scritto ovviamente sono stati grandi visto che la sostanza viene adoperata nella cura di diverse malattie perciò abbiamo sacrificato una fortuna molti nostri amici hanno sostenuto che se ci fossimo riservati i nostri diritti avremmo avuto i mezzi finanziari per fondare l'istituto del radio senza tutte quelle difficoltà che ci hanno poi ostacolato lo vedremo più avanti eppure continuo a essere convinta che abbiamo fatto bene perché perché dice l'umanità ha sicuramente bisogno di uomini pratici che valorizzano il proprio lavoro per il proprio interesse ma ha bisogno anche di sognatori per i quali proseguire altruisticamente uno scopo è così tassativo che diventa impossibile per loro dedicare attenzione al loro interesse materiale e quindi chiude dicendo si potrà senza dubbio dire che questi idealisti non meritino ricchezze perché non le desiderano 1904-1910 gioie e tragedie dopo il Nobel grande popolarità al punto che Marie dice non avemmo più pace fu una causa causa di autentica sofferenza una catastrofe turbò seriamente l'organizzazione della nostra vita perché tutti vogliono parlargli giornalisti politici lasciateci lavorare però il premio Nobel porta anche benefici finalmente la Sorbona dà una cattedra a Pierre solo a Pierre Pierre dice sì ma io ho bisogno anche di un laboratorio la Sorbona dice vabbè te lo darò nel 1906 intanto do a Marie la direzione del laboratorio che non c'è quindi non gliela do e loro continuano nell'ex deposito dove almeno con i soldi del Nobel possono pagarsi del personale tra cui vedremo un personaggio che si chiama De Bierna che sarà il loro capo laboratorio operativo persona di assoluta fiducia le autorità scientifiche a questo punto chiamano Pierre e dice senti adesso tu devi entrare nell'accademia ti voteremo tutti avrai l'unanimità sarà una cosa fantastica Pierre dopo una serie di rifiuti si lascia convincere sarà sì eletto ma solo di stretta misura e ne resta terribilmente deluso perché dice ancora una volta qui c'è una sorta di mafia e via il 6 dicembre 1904 nasce Evdniz Curie nel 1904 Maria è di nuovo incinta questa volta non vuole correre i rischi di quelli che credeva che fossero i rischi quindi rinuncia all'insegnamento che aveva una scuola femminile a Sevra per ridursi il carico di lavoro e quindi nasce e vedete la gravidanza di Evd e della bambina che invece nacque praticamente morta è stata uguale però l'elemento probabilistico stocastico ha fatto sì che invece Evd nasca senza problema ma lì le trova subito una babysitter polacca così che impari il polacco e questa sono le due bambine un po' più grandi ma la felicità familiare dura solo 16 mesi perché il 19 aprile 1906 Pierre muore a 47 anni travolto da un carro attraversando la strada vedete gli articoli sul giornale morte tragica di Monsieur Curie il grande sapiente che ha scoperto il radio e mordola eccetera Marie resta vedova a 39 anni ha due bambine una di nove anni e una di un anno e mezzo ma soprattutto è privata della persona di cui condivideva pienamente vita e ideali quasi impazzisce i primi giorni sono terribili non parla allestisce la camera ardente e lutto nazionale deve ricevere il presidente della repubblica il presidente del consiglio il proettore di autorità acti accademici comincia a scrivere in un diario in francese in cui si rivolge a Pierre e si scusa per essere ancora viva la famiglia deciderà poi che questo diario resti segreto è soltanto Eve che ne cita alcuni passaggi in quella biografia che vi ho citato inizialmente questo è uno dice per strada cammino come ipnotizzata senza badare a nulla non mi ucciderò ma in mezzo a tutte queste vetture perché non ce n'è una che mi faccia condividere la sorte del mio amato ma alla fine lei ricorda che Pierre aveva detto che qualunque cosa succeda lei deve continuare a lavorare anche se sola perciò si sforza e comincia a lavorare la Sorbona a questo punto piccola sorpresa le offre il corso di fisica che era stato di Pierre inizialmente come assistente 1906 e due anni dopo le dà proprio la cattedra titolare di cattedra del 1908 la prima lezione 5 novembre 1906 alla Sorbona la prima lezione di Madame Curie è un evento sociale l'altra società si presenta non vuole perdere questa grande cosa l'aula si riempie di personalità di autorità accademiche di giornalisti e anche qualche studente in qualche maniera riesce ad entrare un applauso accoglie Madame Curie quando entra lei ignora completamente e inizia la sua lezione quando finisce la lezione grande applauso lei ignora completamente e se ne va e questa è la foto della sua prima lezione dall'età che vedete dai presenti gli studenti sono pochi anche se a quei tempi si appariva più vecchi allora lei vorrebbe onorare la memoria di Pierre con l'istituto per il radio ma la Sorbona temporeggia nel 1909 Marie minaccia di lasciare la Sorbona perché il direttore del istituto Pasteur che è convenzionato eccetera le offre quello che di cui lei avrebbe bisogno la Sorbona per non perderla dice va bene va bene allora ti do un po' di soldi siamo nel 1909 ma nel 1914 inizia la grande guerra e l'istituto del radio ancora non c'è il governo francese comunque nel 1910 vuole onorare Marie con la legion d'honneur lei dice no no perché mio marito e io eravamo troppo uniti lui ha detto di no e io dico di no non la voglio però colleghi dicono guarda però che Pier è stato eletto all'Accademia delle Scienze nel 1905 dai provaci anche tu lei non vorrebbe proprio perché la solita storia anche lei non è una che va in giro a dire dai votatemi perché siete così bravi perché lei è così meraviglioso e tutto quanto però dice insomma ci sarebbe vantaggio per il suo istituto e comunque forse con lei l'Accademia si aprirebbe a una donna forse e la votazione ha luogo il 23 gennaio 1911 adesso attenzione perché tutto non lo so sbaglio io non mi sarei mai aspettato che la stampa si getta su questa cosa qui ma che gli importa ai giornali popolari di chi è il sessantesimo membro dell'Accademia delle Scienze ma però chi sono i candidati Madame Curie 43 anni ha vinto il Nobel nel 1903 isolato il radio metallico nel 1910 ha ricevuto altri premi l'altro l'altro è questo signore Edward Branly 66 anni ha il suo terzo tentativo di entrare nell'Accademia fisico inventore nelle telecomunicazioni ha inventato un componente usato da Marconi nel nella sua nella sua radio al di là dei diversi meriti scientifici perché Branly è comunque un buon fisico non è uno qualunque certo non è paragonabile i due sono diversi per storia e personalità Branly è francese devoto cattolico e insegna l'università cattolica da 30 anni Madame Curie è nata in Polonia è agnostica ed è donna e la stampa si polarizza e io continuo a ripetere non riesco a capire qual interesse ci fosse però evidentemente i giornali principali Figaro Le Tame sono per Madame Curie ma le testate popolari nazionali e antisemite antisemite perché ricordate che in Francia l'antisemitismo dell'affare dell'affare Dreyfus che durò fino al 1906 era ancora vivo e questi non tanto evidenziano i meriti di Branly quanto attaccano Madame Curie in quanto straniera atea ed ebrea ebrea ma non è ebrea non è mai stata non c'entra niente ma che gli importa la stampa tanto quello che scrivo no e perfino per la sua grafia e per i tratti del suo viso infatti guardate che cosa fanno vedere assomiglia forse a quella reale che avete visto nelle mie nelle foto incredibile il male che può fare la stampa uno direbbe ma la stampa non influenzerà gli accademici beh la parte chi lo sa però certamente stimola un'ostilità contro Madame Curie e così si arriva alla votazione il 23 gennaio del 1911 quelli importanti come Henri Poincaré sono per Madame Curie hanno anche detto e dichiarato la loro preferenza ma non sono tutti come Poincaré nella prima votazione 29 per Branly Curie 28 Brilloen 1 ma non è sufficiente deve essere ripetuta e a questo punto ci sono quel minimo scarto di due richiesto e Branly è eletto lei non dà nessun segno esteriore ma dentro si sente distrutta e non vorrà candidarsi mai più nemmeno pochi giorni dopo perché muore un altro accademico se non se ne parla mai più di questa roba qua o pensate che la prima donna entrata nell'accademia ma solo come corrispondente è stata questa signora Marguerite Peret nel 1962 quindi 51 anni dopo il tentativo di Madame Curie e lei è stata la scopratrice del Francio che è stato l'ultimo elemento naturale identificato e che aveva iniziato come ragazzina neolaureata nel laboratorio di Madame Curie ma la prima donna a pieno titolo nell'accademia è questa signora che ha 101 anni adesso Chocquet Brouin che è un fisico matematico esperta di relatività generale è entrata nel 1979 appunto quindi 68 anni dopo il tentativo di Madame Curie uno dice ma a noi sembra molto strano io sono anche vecchio rispetto a tanti di questa stanza ma mi sembra così strano ma perché è così difficile beh mi è venuta in mente una cosa ma andiamo a vedere quando sono stati dati in Europa i diritti di voto alle donne allora questi sono i buoni la Finlandia l'ha dato nel 1906 la Norvegia la Danimarca l'Olanda l'Austria 1918-18 Lussemburgo Svezia Irlanda e poi ci sono i meno buoni no pensate che il 20 maggio 1919 la Camera dei Deputati Francese gasata dalla vittoria nella grande guerra con 344 voti contro 97 concesse il diritto alle donne ma il Senato ha detto ragazzi ma siete tutti scemi e quindi ha rovesciato la decisione della Camera per cui la Francia ha dato il voto alle donne nel 44 l'Italia nel 45 il Belgio nel 48 la Grecia nel 52 il Portogallo nel 76 la Spagna nel 77 alcuni cantoni svizzeri pochi anni fa nel 1911 iniziano i congressi Solvay famoso industriale che diventano il forum dell'eccellenza nella fisica il primo congresso Solvay che va dal 30 ottobre al 3 novembre del 1911 è sulla teoria della radiazione dei quanti questi sono i partecipanti non ho messo tutti i nomi e potete vedere alcuni molto famosi Lorenz Sommerfeld De Broly Rutherford Poincaré Einstein Madame Curie Langevin vi segnalo Langevin perché presto dovremo parlarne i congressi sono solo per invito è un grande onore essere invitati Madame Curie è l'unica donna ma sta per cederle addosso qualcosa di molto grave il 3 novembre mentre lei ancora a Solvay la stampa popolare denuncia lo scandalo la stessa stampa che attaccò Madame Curie come straniera atea ed ebrea denuncia ora una sua relazione con Paul Langevin guardate guardate i titoli una dolorosa storia nel mondo dei sapienti e guardate la foto quando dovevano dire che era brutta hanno usato una foto modificata perché aveva una pazza adesso hanno preso una foto di 15 anni prima questa è più onesta l'avventura di Madame Curie e di Monsieur Langevin le giornale una storia d'amore gli articoli contengono errori evidenti e falsità ma fanno male lo stesso Langevin era in rotta con la moglie da molti anni perché per questione di soldi tutte e due non erano nati ricchi e lui era pagato poco dall'università lui era un grandissimo fisico non a caso era stato invitato a Solvay era un sostenitore di Einstein un esperto di raggi X aveva lavorato con Rutherford insomma persona che conta però la moglie diceva vai in industria perché guadagni più soldi lui dice di no e la cosa diventa così fastidiosa che dopo anni di litigio lui lascia la famiglia e va a vivere da solo in un piccolo appartamento a Parigi l'8 novembre cinque giorni dopo lo scandalo un telegramma da Stoccolma annuncia a Madame Curie l'assegnazione del Nobel per la chimica per la scoperta del Polonio del radio e per l'isolamento del radio e quindi diventa la prima e unica persona a ricevere due Nobel in due scienze ma la stampa popolare continua ad attaccarla e l'Action Française ricorda la frase con cui Fouquet-Tinville nel 1794 mandò Lavoisier alla ghigliottina dicendo la Repubblica non ha bisogno di sapienti né di chimici eh può darsi c'è un altro passo quasi da giallo no? perché la moglie di Langevin si introduce con un cognato nell'ufficio di Langevin forzano i cassetti e trovano la corrispondenza tra loro tra Paul e Marie la passano alla stampa la stampa non ha il coraggio di mostrare le lettere all'inizio dice solo che esistono le lettere che loro le hanno finché questo signore Gustave Théry dell'oeuvre intitola Scandalo alla Sorbonne pubblica estratti delle lettere non solo da lei a lui ma anche da lui a lei e qui c'è un po' un punto di domanda perché che lui conservasse le lettere di lei ok ma cosa faceva anche conservava le brutte copie delle sue lettere non lo so un po' confusi comunque nelle lettere Paul e Marie si danno del tu Madame Curie non ha mai dato del tu quasi a nessuno salvo che al fratello Paul Jacques di Pierre mai a collaboratori mai però taglia e incolla può succedere di tutto che cosa vuol dire affascinazione intellettuale ricerca di compagnia affetto materno per un collega più giovane con problemi coniugali o c'è di più Therry arriva a scrivere che la relazione esisteva da anni e che per questo Pierre Curie si è suicidato nel 1906 buttandosi sotto un carro io dico ma non lo so c'è qualcuno qui dai numeri cioè questo è chiarissimamente falso Langevin sfida a duello Therry alle pistole si incontrano il 25 novembre ma Therry non punta l'arma e Langevin non spara a uno che non lo minaccia poi Therry scrive che non voleva privare la scienza francese di una mente preziosa ma le cose vanno malissimo per Madame Curie perché una folla minacciosa di benpensanti assedia la sua casa la insulta e tira sassi alle finestre lei cerca di resistere ma la situazione diventa brutta e a questo punto una sua amica Marguerite Borel si presenta con De Bjerne che era il capo operativo del laboratorio la convince a venire via lei e le figlie e di andare a vivere dai Borel per un po' i Borel vivano all'interno della Sorbona perché lui è un importante personaggio e vediamo un po' meglio chi è Marguerite Borel è figlia di Paul Appel vi ricordate chi è Paul Appel Paul Appel è quello che ha chiesto il rettore della Sorbona aveva chiesto a Pierre di accettare la Légion de Neur e Pierre ha detto di no Appel è anche quello che era andato a casa di Marie ad annunciarle la morte di Pierre il giorno dell'incidente questa è sua figlia che è moglie di Emile Borel Emile Borel è un matematico che ha lavorato sulla teoria della misura della probabilità è il relatore di dottorato di Lebeg chi ha studiato queste cose si ricorda i nomi ed è anche un politico deputato e ministro della Marina ai nostri giorni non credo che succeda molto frequentemente che un fisico matematico diventi ministro della Marina comunque lei è disperata soprattutto è disperata perché questo macchia il nome di Pierre e soprattutto può influire molto negativamente su Irene perché Irene può leggere queste cose sulla stampa Irene ha 14 anni che cosa può pensare 14 anni nel 1911 non nel 2023 o giù di lì quasi tutti l'abbandonano il ministro della pubblica istruzione dice a Emile Borel di mandarla via perché mette a rischio la reputazione della Sorbona Paul Appel che è il suocero di Borel il rettore della Sorbona dice non ti compromettere manda la via la rimandiamo in Polonia e che non torni mai più ma i Borel resistono dicono non ce ne frega niente per noi invece è una persona degna eccetera eccetera e lei stessa per quanto disperata dice no io resto perché Pierre era francese le mie figlie sono francesi io ho fatto tutto in Francia perfino questo signore che è il presidente della commissione Nobel la chiama e le dice non venire per il Nobel lo scandalo è tale il Nobel è tuo ma non venire a Stoccolma ma lei gli risponde secca dice la mia vita privata non ha nulla a che vedere con i miei meriti e quindi vengo in effetti va a Stoccolma e sei anni prima aveva parlato a Pierre parla a lei spiega che cosa ha fatto spiega che il Nobel è suo è meritato ma conclude che il Nobel è anche il doveroso omaggio alla memoria di Pierre e questo è il secondo Nobel tutto suo la tempesta un po' va avanti Therese continua per tre settimane a questo punto sulla degenerazione morale dell'intera facoltà di scienze la causa di divorzio tra Langevin e la moglie si chiude con totale addebito a Langevin perché lui per proteggere il nome di Madame Curie qualunque cosa ci sia stata tra loro non la nomina mai nessun documento ufficiale indica quale fu la causa di divorzio però lei è distrutta si chiude in un anonimato va a abitare fuori Parigi in una casa affittata dalla sorella Irene può scriverle ma indirizzando Madame Skodowska e solo Debierne sa l'indirizzo di dove lei abita lei sta malissimo danni fisici ed emotivi crisi depressiva problemi renali e il 29 dicembre è portata in ospedale in Barella si valuta un'operazione il 1912 è un anno disastroso in un lato ma di recupero nell'altro sta in ospedale per un mese poi viene dimesso i problemi renali si ripongono allora deve essere operata viene operata attenzione che operati come si erano operati allora non è come adesso non era mini invasivo tutte queste cose ha una ricaduta è ricoverata in un sanatorio in Alta Savoia ad agosto lei accetta di andare in Gran Bretagna in Inghilterra a trovare una sua amica questa signora che si chiama Hertha Ayrton che già a gennaio l'aveva offerto di venire di andare lì per sfuggire a tutto questo ma solo adesso si sente bene abbastanza Hertha era a sua volta moglie di un fisico lei lavorava era polacca di origine vedova dal 1908 non ammessa alla Royal Society in quanto donna allora va passano del tempo sulla costa sud-ovest a Christchurch Irene e Eve vengono a trovarla a settembre va a Londra a ottobre pensa di essere stare bene quanto basta per tornare a Parigi finalmente il 3 dicembre 1912 torna operativa in laboratorio la sua ultima annotazione precedente era del 7 ottobre del 1911 14 mesi prima con diciamo la determinazione che aveva lei nelle sue ricerche potete pensare quanto male deve essere stata a lasciare il laboratorio per 14 mesi e qui c'è un altro capitolo completamente ignoto non l'avevo mai saputo cioè il fatto che Madame Curie salvò migliaia di persone nella grande guerra comincia la guerra la ricerca si ferma tutti sono chiamati alle armi si pensa che Parigi possa essere occupata tutti scappano il governo ordina a Madame Curie di portare le scorte di radio a Bordeaux nel forziere di una banca lei ci va e poi ritorna a Parigi con un treno militare dove sorprende tutti perché dice ma come tutti scappano da Parigi e tu ci torni sì perché? perché lei vuole fare dell'altro per aiutare i soldati francesi che cosa fa? lei capisce che se si disponesse al fronte di apparecchiature a raggi X si potrebbero salvare molte vite identificando per tempo dove sono le schegge dove sono le pallottole senza tagliuzzare le persone e così via quindi sviluppa delle unità radiologiche mobili che verranno chiamate Petit Curie si fa finanziare da chi ha i soldi e dato che c'è scarsità di autisti impara essa stessa a guidare ed eccola lì alla guida di un Petit Curie già nel 1914 è nominata direttore del servizio radiologico della Croce Rossa nel primo anno di guerra fa predisporre 20 unità mobili al fronte e 200 centri radiologici nelle retrovie di cui beneficiano nel corso della guerra un milione e centomila soldati nel 1915 qui torniamo a Radon fa produrre aghi cavi di Radon questo gas radioattivo dal decadimento del radio che serve per disinfettare le ferite e investe in titoli di stato di guerra tutto ciò che le resta del primi Nobel che sono un bel po' di soldi all'inizio è praticamente da sola con l'aiuto soltanto di un medico militare e di Ren che ha 17 anni non ci sono uomini e lei a destra personale femminile che operi le unità radiologiche purtroppo le protezioni sono quello che sono perché ancora non si sa la pericolosità qualche schermo qua e là guanti di stoffa pensate cosa fanno e l'accortezza di evitare di attraversare il fascio dei raggi X ma salva anche qualche fisico e chimico perché occorre anche del personale tecnico per non ottenere le apparecchiature e quindi salva dalle trincee fisici e chimici tra cui il suo capo laboratorio De Biern che nel frattempo come sergente si era già guadagnato una croce di guerra o se giocava a pallone mica andavano in guerra e lo tenevano a casa perché il pallone è importante allora a questo punto lei è una celebrità internazionale parliamo di un lungo periodo 1919-1933 e sarà ricevuta da due presidenti degli Stati Uniti lei vuole continuare le sue ricerche ma non ha fondi e la Francia non l'aiuta la soluzione gli viene in una maniera stranissima attraverso questa giornalista americana Mary Melanie Missy per gli amici che chiede insistentemente di incontrarla lei la fa aspettare per mesi perché odia i giornalisti come potete immaginare dopo quello che le è successo e comunque quando le riceve la sua segretaria dichiara che madame riceve solo il martedì tipicamente un'ora solo per parlare delle sue scienze e mai dirà un'opinione su qualcosa che non sia scienza e comunque niente di personale vabbè però riceve questa Mary Melanie Melanie Missy non impressione piccola minuta zoppica per una caduta da cavallo soffre di tubercolosi però è una persona importante ha accesso al vicepresidente Coolidge negli Stati Uniti e prima di andare da Madame Curie ha incontrato in Gran Bretagna Bertrand Russell e Wells quello famoso scrittore in seguito arriverà perfino a intervistare Mussolini e Hitler questa è la Missy con Madame Curie lei ha 37 anni Madame Curie 53 Madame Curie le spiega i suoi problemi economici e le spiega anche la purezza dei suoi intenti scientifici e Missy le dice guarda io ti posso fare avere un grammo di uranio purché tu vai negli Stati Uniti e scrivi una tua autobiografia quella di cui vi parlavo all'inizio Marie Curie pone un vincolo il grammo di uranio deve essere donato a lei non al laboratorio non alla Sorbona perché solo così sono sicuro che verrà usato per la scienza ok e accetta di andare negli Stati Uniti lasciando per quasi due mesi il suo laboratorio e accetta anche che la sua visita diventi un evento qui è sulla nave con Ev a sinistra e Irene e con Missy quindi visita università riceve lauree onoris causa medaglia onorificenza visita ospedale laboratori grandi scienziati ricevimenti alle ambasciate incontri con associazioni femminili eventi sociali e fundraising e il 20 maggio è ricevuta la Casa Bianca dove il presidente Harding le dà una piccola chiave d'oro che apre la cassetta di piombo da 50 kg che contiene un grammo di radio e un grandissimo successo economico perché torna con un grammo di radio radionuclidi di Torio 52 mila dollari in un fondo 6.884 eccetera dollari in contanti la promessa di altri 50 mila dollari in strumenti che in effetti le arriveranno vi faccio notare una piccola cosa vedete il braccio gliel'hanno disfatto in una stretta di mano un americanone per lui gli hanno regalato una specie di lussazione al polso ne riparleremo tra poco ora può guardare al futuro con larghezza di mezzi per continuare le ricerche a suo tempo lei ricompenserà Missy con una legenda no finalmente la Francia si sveglia e nel 1922 viene eletta all'unanimità nell'accademia di medicina non quella delle scienze non solo comunque è la prima donna ma il governo francese in 1923 le assegna come ricompensa nazionale una pensione annua di 40.000 franchi reversibili alle figlie lei sente che deve comunque diffondere le sue conoscenze quindi fa conferenze dappertutto Olanda Danimarca Brasile Spagna Ciclo Slovacchia è chiamata nel comitato internazionale per la cooperazione intellettuale della società delle nazioni che era quella che aveva preceduto l'ONU dove serve per 12 anni con colleghi come Einstein Lorenz e Berson scrive una biografia su Pierre Curie visita la Polonia questo è importante perché vuole creare anche là siamo nel 25 la Polonia c'è a questo punto non è più la Russia siamo dopo il 17 e pone le basi per l'istituto del radio di Varsavia per applicazioni mediche solo mediche che sarà diretto da Bronia che è un medico nel 1927 Marie Curie ha 60 anni qui con Gressi e Scolvessi succedono questo è uno particolarmente importante perché 17 dei 29 scienziati sono o saranno premi Nobel e c'è anche un cambio generazionale perché ci sono i fisici quantistici che prima non c'erano Dirac Schrodinger Pauli Heisenberg e poi ovviamente ci sono tutti gli altri e Madame Curie è ancora l'unica donna questa volta è preseduta da Lawrence Madame Curie ha bisogno di radio anche per l'istituto in Polonia allora si rivolge a Missy e le dice senti la Polonia ha bisogno di questo cosa possiamo fare Missy le dice guarda la Polonia non ci potesse fregare de meno però tu sei tu se vieni tu a te ti diamo tutto quello che vuoi e quindi lei accetta dice va bene per la mia Polonia accetto di tornare e pone però i limiti niente autografi niente interviste niente ritratti niente cene affollate soprattutto niente strette di mane per via di quello che era successo qualche anno prima così questo è il nuovo presidente era Hoover non è più Hardin e viene ricevuta è addirittura ospitata nella Casa Bianca raccoglie fondi supera gli obiettivi ce n'è anche per Parigi e fa appena in tempo a scappare indietro perché inizia la grande depressione siamo nel 1903 siamo quasi alla fine e abbiate ancora un po' di pazienza e al settimo congresso Solvay lei non è più l'unica donna il congresso ha per teme la struttura la proprietà dei nuclei atomici nel frattempo sono stati scoperti questi e un sacco di altre cose Langevin molto vecchio è ancora è lui che dirige la cosa ci sono altre donne c'è Lise Meitner che sarà la persona che nel 1938-39 sarà la prima a spiegare con la fissione i risultati degli esperimenti di Hann e Strassman e ci sono i Ren e il marito Frédéric Joliot Ren Joliot-Curie e qui viene naturale non c'è Einstein vabbè perché l'ha lasciato da Germania parliamo un attimo della famiglia delle due figlie no? nel gennaio del 34 era il 33 era quella di prima Frédéric e i Ren ottengono radioattività artificiale artificiale non è più quella naturale dell'uranio bombardando alluminio con particelle alfa alluminio spari particelle alfa due protoni due neutroni ottieni fosforo più un neutrone d'avanzo è il fosforo quel fosforo 30 15 il numero atomico 30 il numero di massa è radioattivo ma è una radioattività indotta dal bombardamento con i nuclei di elio e decade con un tempo di emezzamento brevissimo due minuti e mezzo in silicio più beta più quindi un positrone più un neutrino elettronico Irene e Frédéric condividono il premio Nobel per la chimica per la scoperta della radioattività artificiale nel 1935 un anno dopo però lei è già morta lei muore nel 34 però lo vediamo dopo anche loro purtroppo moriranno presto per le radiazioni Irene muore di leucemia a 59 anni e Frédéric sempre di leucemia a 58 e invece com'è la storia di Eve? Eve vive fino a 103 anni 102 non aveva ancora compiuto tutta una storia diversa lei fu pianista scrittrice giornalista di guerra fuggì in Gran Bretagna durante la seconda guerra mondiale si unì alle truppe di De Gaulle ebbe il grado di tenente e ebbe una croce di guerra dopo la seconda guerra mondiale fu assistente al primo segretario generale della Nato e nel 54 sposò Henry si dovrebbe dire Labuisse o Labuisse come dicono gli americani ambasciatore USA un americano poi direttore dell'Unicef nel 1958 lei diventa cittadina statunitense lavorò per l'Unicef dal 1954 visitando più di 100 nazioni rimase vedova a 83 anni si stabilì a New York dove morì a 102 anni per i cent'anni aveva ricevuto auguri da Kofi Annan George W. Bush e Jacques Chirac nel 2005 lei accettò la legione d'onore e poi scherzosamente scrisse questo ci sono 5 premi Nobel nella mia famiglia 2 per mia mamma 1 per mio papà 1 per mia sorella 1 per mio genero e 1 per suo marito suo marito in realtà ha preso il premio Nobel per la pace in quanto direttore generale dell'Unicef non personalmente e quindi conclude dicendo solo io non ho avuto successo e siamo arrivati alla fine la salute peggiora ritorna la tubercolose i danni della radiazione che lei non ha mai ammesso ha sempre rifiutato di avere subito danni e si prepara però alla fine con due obiettivi diversi salvaguardare il futuro del suo istituto e mantenere la riservatezza su se stessa quindi per l'istituto del radio fa tutti gli atti notarivi necessari perché il radio in esso contenuto si è ereditato dai REN senza nessun vincolo non può andare allo Stato alla ricerca all'università eccetera perché non si fida e per salvaguardare la sua privacy che ha sempre difeso distrugge tutte le lettere private tranne le primissime lettere di Pierre vecchie di 40 anni che affida alle figlie e chiede a Missy di distruggere tutta la loro corrispondenza privata Missy obbedirà quasi completamente in fondo è una giornalista ma da anche lì muore a 66 anni di anemia perniciosa a plastica contratta per le radiazioni coerentemente al suo modo di essere vuole un funerale privato e la sua tomba è quindi a Sceau accanto a quella di Pierre 50 anni dopo la Francia onora entrambi trasferendoli al Pantheon dove riposano dietro uno schermo di piombo perché sono ancora radioattivi i suoi appunti sono pure radioattivi e chiunque li voglia consultare deve firmare una liberatoria e poi li può consultare attraverso cose di vetro portando guanti di un certo tipo e prendendosi certi rischi liste di onorificenze infinite di tutti i tipi premi medaglie lauree il Curie unità di misura di radioattività il Curio che è un transuranico con 96 protoni francobolli banconote monete asteroidi film biografie ma tra i suoi meriti grandissimi fa spicco che non si fece mai distrarre dalla fama e fu sempre distaccata dal denaro cercandolo solo per finanziare la ricerca e chiudo questa è l'ultima tavola quindi siete tranquilli questo è ciò che Einstein nel 1935 scrisse su Marie Curie nel suo libro che in italiano è parte di pensieri degli anni difficili la pagina 33 della Boringhieri Einstein scrisse questo di lei è stata una grande fortuna per me essere legato a Madame Curie da vent'anni di sublime e serena amicizia la sua energia la sua purezza di intenti la sua autorità verso se stessa la sua obiettività il suo modo incorruttibile di giudicare tutte queste qualità furono presenti in lei in un grado che raramente è riscontrabile in una singola persona si sentì in ogni istante al servizio della società e la sua profonda modestia non lasciò mai il posto alla compiacenza fu tormentata da un costante senso delle asprezze e dell'ingiustizia della società questo le conferì quell'aspetto esterno severo qui bell'applauso per ringraziarti insomma per questa presentazione molto ricca di una persona che noi non conoscevamo a questo punto e tu col tuo lavoro insomma la tua ricerca intensa ci hai permesso così di conoscere la storia di questa donna straordinaria per la scienza per quello che ha fatto per la scienza per quello che ha fatto per il suo paese ma anche per l'esempio insomma di persona che si è impegnata durante la guerra per appunto salvare vite umane notevole grazie se c'è qualche curiosità che può emergere così da questo racconto ricchissimo insomma magari c'è spazio per una domanda se fosse stata in Italia negli stessi anni cosa avrebbe avuto una storia diversa o l'ambiente sarebbe stato venendo cioè la stessa persona che sceglie di andare a sposare Roberto Macchi ma certamente c'è stata questa assolutamente causa casuale incontro casuale con Pierre Curie che ha fatto un'enorme differenza perché anche lui era innegabilmente un genio non dobbiamo dimenticarlo e poi questa sintonia particolare devo dire che la Francia non ha fatto quasi niente per lei per cui mi verrebbe quasi da dire che non poteva andarle peggio se fosse stata in Italia invece che in Francia in Italia io non ho purtroppo una conoscenza in questo momento poi dovrei andare a cercare di che cos'erano i governi italiani di quel tempo l'unico esempio che ho che però è trasferito nel tempo direi vent'anni dopo pressa poco 20-25 è quello che successe a Enrico Fermi e ai ragazzi di Via Penisperna cioè quelli di voi che magari erano qui quando io feci quella presentazione anche lì cose che imparai i ragazzi di Via Penisperna non sarebbero mai esistiti Enrico Fermi era comunque un genio quindi in qualche maniera avrebbe fatto qualunque cosa e comunque non è una donna e questo è un altro paio di mani ma c'era una persona l'allora ministro dell'istruzione mi sta sfuggendo nome Corvino forse che aveva intuito lui era un fisico uno dei migliori fisici italiani del suo tempo ma era anche un grande manager cioè uno che aveva gestiva banche controllava aziende di stato e lui aveva veramente reso possibile creato le condizioni economiche ma anche il fatto poi lui aveva trovato posti universitari per Fermi stesso per Rasetti per altri per Amaldi per questi che furono i ragazzi di Via Penisperna senza i quali non sarebbe stato quindi lì c'è stata questa specie di Deus Ex Machina che ha aiutato anche nella storia di Fermi tra l'altro c'è il fatto che a un certo punto lui ha bisogno di un grammo di radio perché questo grammo di radio che gli viene prestato da uno invece dell'istrutto della sanità il professore che loro che avevano creato questa gerarchia ecclesiastica mi rifaccio sempre per divertimento avevano creato si erano chiamati con grandi con termini ecclesiastici di cui Fermi era chiamato il Papa in quanto infallibile ma sopra di lui c'era il potere assoluto di Corvino che era adesso non mi ricordo come esattamente lo chiamassero ma qualcosa tipo Dio ma era un po' più divertente ma questo signore della sanità che gli fornì il grammo di radio che gli servì per gli esperimenti quando erano i venti venne chiamato la divina provvidenza che stava ancora sopra per via della tornando alla domanda è difficile donne in Italia che avessero fatto qualcosa nella scienza a quei tempi nella letteratura sì ma nella scienza io non ho non ho evidenza non so l'ambiente tardissimo 45 ah sì io di nuovo penso i grandi scienziati di allora che mi vengono in mente gli italiani erano tutti ti ricordi altri i grandi matematici Volterra Enriques Castelnuovo non so erano tutti maschi non so altre domande? andate a leggervi le bibliografie se volete o compratevi se sapete un po' d'inglese con i sottotitoli quella a fare della BBC è fatta veramente bene bene allora grazie prendetevi il programma così ci si